Bene, eccoci, io credo che possiamo iniziare e intanto porgo un saluto a tutti voi che in linea di massima siete già parte integrante dell'associazione di fede della vita con Maria, alcuni anche volontari del numero verde di fede terapia. Io non mi dilungo su nulla ma procedo speditamente per cercare di rendere efficace questa mattinata che però purtroppo parte con 30 minuti di ritardo. Quindi intanto benvenuti alla seconda parte del convegno pastorale sul progetto fede terapia nel nome del padre per una rinnovata accoglienza della vita umana. Bene, iniziamo subito con il saluto che ci porta il signor Mirko Ferrari che prego di venire qua a nome del presidente del forum delle associazioni familiari del Piemonte, anche membro del consiglio nazionale del forum delle associazioni familiari. Buongiorno a tutti, il mio compito è brevissimo per non sottrarre ulteriore tempo alla giornata. Vi porto i saluti del dottor Fabio Gallo, gentilissimi, purtroppo domani per improrogli impegni non potrò essere presente al convegno, ma mi rappresenterà l'amico Mirko Ferrari. Cordialmente a presto, dottor Fabio Gallo. Io rubo veramente due parole per spiegare meglio qual è il compito del forum nazionale delle associazioni familiari. Il forum ovviamente intende promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, come è previsto la nostra Costituzione, l'articolo 29, 30 e 31. Sottolineo l'importanza, soprattutto nell'articolo 31, dove si sottolinea la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. E poi, come secondo punto, il forum intende da sempre riconsegnare alla famiglia il diritto di cittadinanza perché occupi nella vita politica del nostro Paese il posto che le spetta quale soggetto sociale da promuovere e non soggetto debole da assistere. Chiaramente il forum ha una rappresentanza piemontese, il forum delle associazioni familiari del Piemonte, che ha la presidenza in Fabio Gallo, nato nel 1997, il forum delle associazioni familiari Piemonte è attualmente composto da 17 associazioni. Ha un duplice obiettivo il forum, quello di sollecitare una legislazione anche regionale di promozione e salvaguardia della famiglia ai diversi livelli in cui si articola l'ordinamento giuridico-amministrativo, promuovere nelle famiglie stesse la consapevolezza della loro funzione sociale e politica, favorendo l'associazionismo a di là di ogni individualismo. Da qui vorremmo partire per la costituzione di un forum territoriale che possa monitorare con costanza l'attività anche della politica nel nostro territorio, nella nostra città e nella nostra provincia, credo che nei prossimi mesi ci saranno novità su questo. Detto questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ringrazio i relatori e buon lavoro a tutti. Grazie per essere intervenuti come forum delle famiglie, grazie perché noi occupandoci di un aspetto estremamente importante della vita delle famiglie, sicuramente abbiamo bisogno di sempre maggiore collaborazione, noi offriamo un aspetto all'interno poi di un coordinamento più ampio che possa portare la famiglia là, nel ruolo che gli compete per natura e per diritto. Grazie. Affidio l'introduzione di questo incontro all'avvocato Emiliano Ferri, diacolo nella Diocesi di Roma, avvocato, membro dell'equip di fede e terapia, soprattutto curatore degli aspetti legali che non sono secondari vista la dimensione del lavoro che svolge fede e terapia e con molta gioia da parte mia, così te lo dico direttamente, eletto nel mese di marzo, aprile, anzi di quest'anno, vicepresidente nazionale della nostra associazione di difendere la vita con Maria. Ecco, facciamogli un applauso perché è il suo primo dalla nomina. A te la parola. Grazie Alberto e buongiorno a tutti, grazie a tutti. Sì, Don Maurizio, perdonate, un po' leggerò e un po' vi guarderò, un po' l'emozione, poi sono molto prolisso, chi mi conosce lo sa, quindi rischiavamo di fare domani mattina soltanto con me. Don Maurizio mi ha chiesto di fare questo breve intervento durante questo convegno, un convegno che avevo già capito da subito ma poi mano a mano si è andato veramente ad attualizzare quello che avevo compreso, è stato secondo me per la nostra associazione, non è tuttora, per la nostra associazione un convegno che forse segna in qualche modo una nuova tappa. Una nuova tappa perché abbiamo visto quanta amicizia, quanto bene ci vuole il Cardinas Grecia e abbiamo visto anche, anche se già lo sapevamo, però che uomo di Dio è il Cardinas Grecia. In qualche modo abbiamo avuto una sorta di lascia passare, Monsignor Paglia ha scritto quella bella lettera quasi di ringraziamento, sembrerebbe. E ovviamente poi la presenza di Monsignor Brambilla, quindi è un qualcosa sul quale veramente dovremmo riflettere. E proprio su questo, sulla nostra associazione vorrei intervenire questa mattina. L'alternativa, scrivevo, sarebbe stata una noiosissima lezione teorica di diritto sulla responsabilità delle operatrici e degli operatori telefonici che chi l'ha fatto già dice Dio per carità. Invece appunto proprio in questa mia nuova veste, nella qualità di vicepresidente, vorrei intervenire per condividere con voi questa idea che sempre più mi sia andata rafforzando in questi anni. E cioè che quest'opera con cui il Signore della vita ci ha permesso di collaborare al suo divino disegno, perché di questo stiamo parlando, sia veramente profetica. E quindi come tutte le opere profetiche, come tutti i profeti, spesso non compresa. Però poi mi sono domandato, non solo non compresa dagli altri, ma tantissime volte anche da noi. Questo perché a volte ci sembra di lottare contro i mulini al vento, diciamo a noi stessi o tra di noi anche, non ho più ricevuto telefonate, ma quella telefonata lì non è che è andata proprio così tanto bene, forse la risposta che abbiamo dato è una risposta non consona, forse tardiva. Fino ad arrivare veramente a dirci forse dovremmo fare altro, chi ha famiglia, che ha figli, che lavora. E allora appunto è la paura di non star facendo la cosa giusta. Sappiamo tuttavia molto bene, sorelle e fratelli in Cristo, da chi viene la paura. E il serpente attico le prova tutte per farci fallire, perché sa che anche solo stando noi lì ad aspettare, l'aver dato la nostra disponibilità anche solo per un'ora a settimana, ad una probabile persona che forse chiamerà perché cerca consolazione, cerca un buon samaritano che possa lenire le ferite. Ecco anche semplicemente nell'accoglierlo con l'ascolto, eh sì questo è il nostro figliate. Certo ci sono sempre delle cose da migliorare, grazie a Dio che se no ci monteremo anche velocemente la testa. Ma mai, mai dobbiamo pensare che il nostro servizio sia vano o sia nullo. Mi riferisco soprattutto alle operatrici del numero verde. Veramente possiamo dire con Madre Teresa, se non puoi sfamare 100 bisognosi sicuramente ne puoi sfamare uno. Ecco provate a parafrasarlo con quanto facciamo al numero verde. Immaginiamo se durante il giorno non tutti i turni fossero coperti. Magari non è coperto il turno che va dalle 15 alle 16. E proprio in quell'orario Licia, che è un nome di fantasia, in cerca di un buon samaritano che possa aiutarla a guarire la ferita di un aborto procurato, chiama e non trova nessuno ad accoglierla. Stamattina ho incontrato una signora che non è presente qua e mi ha fatto una testimonianza ed è stata veramente toccante. Perché lei mi ha detto 20 anni fa stavo per abortire mio figlio, che era presente oggi, 20 anni. Però non sono stata accolta, non sono stati gli operatori pro-life, perché qualche operatore pro-life può essere troppo duro. Ecco il buon samaritano non è mai duro, non è mai giudice. Ecco ricordiamoci senza montarci la testa che siamo tutti servi inutili, nel senso però vero del termine, ossia serviamo con tutte le capacità che il Signore ci ha donato ma senza aspettarci mai nulla in cambio. Confidiamo sempre in Gesù e mettiamoci con umiltà, perseveranza e pace nel cuore al servizio che ci ha voluto affidare. Certo probabilmente ci vorrebbe più condivisione non solo tra noi volontari, ma anche con le commissioni locali che colgo per la prima volta l'occasione di salutare nelle persone dei loro responsabili qui presenti. Anche come commissioni locali abbiamo il compito di supportare questo numero verde, seguendo più o meno da vicino il lavoro di Don Maurizio da quasi 5 anni, che non sono tantissimi, mi rendo conto c'è gente che lo segue da 20 anni, mi sono reso conto che la nostra associazione ha ben tre carismi, la preghiera universale per la vita, la degna sepoltura dei bimbi non nati e l'accompagnamento post-aborto col numero verde fede e terapia. Sono tre chiamate cui dobbiamo e probabilmente vogliamo anche dare risposta in modo unitario, tutti insieme, partendo soprattutto dalla preghiera, perché come dice il salmista, se il Signore non costruisce la casa, in vano, vi faticano i costruttori. E il Signore costruisce quando lo mettiamo al centro della nostra vita, ma insieme con noi comunità, perché Gesù ci chiama a collaborare nel suo progetto, ma non come singoli, mai come singoli, sempre come comunità, come famiglia. E da sempre ci ha chiamati a collaborare nella sua misericordia, il seppellimento dei bimbi non nati. Il seppellimento è la settima opera di misericordia corporale, che ha in realtà in sé già un'altra opera di misericordia spirituale, quella di consolare gli afflitti. Quante mamme? Ricordo due anni fa col direttore generale dell'ospedale di Albano, io sono di Roma, dei Castelli Romani, e lui mi disse avvocato con me sfondo a una porta aperta. Dice ma non la vedo dal punto di vista confessionale, spirituale, teologico, religioso, la vedo proprio dal punto di vista, oserei quasi dire, clinico. Il fatto che una mamma a distanza di tanti anni possa sapere che esiste un luogo dove poter andare a piangere suo figlio, anche se lì non è sepolto. Però è una grande opera, chiaramente vi dicevate la pelica. Attraverso questo gesto avviene la pacificazione tra cielo e terra. Sabato scorso abbiamo celebrato al cimitero Laurentino la messa annuale che svolgiamo oramai dal 2013 a Roma. Ecco, mi è venuto questo pensiero, questa preghiera l'ho definita attiva di pacificazione, Don Franz, celebrato Don Franz è un parroco che ci ha ospitato e ci ha ospita a Frascati e veramente lo Spirito Santo lavora anche nelle nostre incomprensioni, è stato veramente un grande insegnamento, perché lui mi fa, Emiliano per cosa dobbiamo pagare oltre che per i bimbi non nati? E io gli ho detto beh, per i loro genitori. Sapete cosa ha fatto lui? Ha pregato per i bimbi non nati e per i genitori morti di questi bimbi non nati. Dice perché magari stanno in purgatorio e aspettano le nostre preghiere per poter riabbracciare i loro figli in paradiso. La misericordia nella preghiera universale per la vita, il nostro è sempre stato e continuerà ad essere un atteggiamento sì fermo, ma mai accusatorio. Ecco, stamattina ho ringraziato questa mamma perché ha confermato quello che avevo pensato. Proprio perché è fondato sulla preghiera, certi che con la pace nel cuore, con la propria testimonianza, proprio la preghiera è l'arma vincente che Dio ci ha consegnato. E ancora il numero verde, i cui volontari mai sono giudici, ma samaritani che accolgono con l'amore di chi conosce quel dolore perché, come dice l'Apostolo delle Genti, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E allora mi avvio alla conclusione di questo breve discorso, ringraziando il Signore per l'opera compiuta in Don Maurizio, per avermi e averci chiamato a compiere la sua opera di misericordia in questa famiglia e per averci donato l'abbiata e sempre vergine Maria, madre, che lasciatemelo dire guida, guida da sempre quest'opera. E allora a lei dobbiamo guardare, a lei dobbiamo somigliare come servi del Signore. E quando ci sentiamo delusi, non compresi, arrabbiati, soli, beh insomma chi mi conosce lo sa, allora diciamoci ave Maria il coraggio. Grazie Emiliano. Io direi che i due anni di sperimentazione di fedioterapia, vent'anni di accompagnamento e seppellimento dei bambini non nati, vent'anni di preghiera universale per la vita, così come l'ha invocata e richiesta specificatamente Giovanni Paolo secondo l'Evangelium Bite, siano il nostro dono alla pastorale, alla Chiesa e attendiamo fiduciosi, quindi intanto sfamiamo uno solo dei cento. Se la Chiesa accoglierà nell'ambito della sua capacità e la sua capacità organizzativa, oltre che la sua prerogativa, l'accoglierà questo dono, allora potremmo arrivare ai cento, certo non arriveremo a tutti, neanche la Chiesa può questo, perché c'è sempre il libero arbitrio, però almeno arriveremo a tanti. E' la speranza che nutriamo da questo convegno in avanti. Grazie Emiliano.